Rimini è una regola nella musica italiana, in questa regola tutti sono passati da Rimini, qualcuno ha messo Rimini nelle sue canzoni e tramite gli eventi che avvengono a Rimini c'è anche una riscoppetta proprio a discografia, la propria arte. Rimini come grande luogo dove passano crocevie artistici, dove c'è una grande rivalutazione, un grande ripensamento, una nuova fase di carriere. Pensiamo a quanti artisti partono da Rimini e lanciano nuovi dischi, che sono dei dischi non più banali, ma nella crisi discografica rappresentano veri punti di ripartenza e di rilancio artistico. In questi anni le grandi produzioni sono passate da Rimini, penso ai concerti avvenuti in Fiera, nel Palasport, nelle piazze della città di Rimini e hanno dato il via per i grandi spettacoli che hanno raccontato la parte artistica in Italia e in Europa. Questo si coniuga con la volontà delle persone di vedere nella propria città quel qualcosa che una volta pensavi lontanissimo ed ora effettivamente ce l'hai sotto casa e benvenga che in realtà come Fiera intercettino, raccontino e quest'anno sempre di più nella formazione e condivisa creino nei lavori un know-how diffuso per migliorare questo aspetto a livello italiano. Grazie a tutti.